Pallò che si tratta del anno del 2017, ma già mi abbia menzionato il mio messaggio di fin di anno è che si tratta di un anno di reto, di un anno di elezione, per cui il popolo si farà un mesco non vuole un cambio. Nel quadro di cambio, qui, il 17 novembre e, rispettivamente, a mia persona, il 20 novembre, ci siamo in carico di guire un paese, un paese che, nel momento qui, si tratta di un cambio, tanto se fosse un ferrari e un paese che si tratta di un cambio. Pallò che si tratta di un'altra persona, mi abitiamo a Rolanda, durante due settimane che abbiamo fatto una situazione che abbiamo fatto veramente un dins che è completamente dubbata, perché è una promessa firme, con Pallò che si tratta di due giorni di socia in avanti, la lotta becriba e mappa di chi è rappresentato, non solamente per noi, siamo in avanti alle persone che sono in avanti, mappa di un'arubo, ma anche per noi, siamo in avanti a una residencia in l'Olanda. A mia cosa è una tarea principale di tocare l'arubo e un'arubo che si tratta di un'arubo, come su casa qui in Aruba. La prima cosa è una tarea facile, è tenso retto, per esempio, a un'arubo che si tratta di un'arubo che si tratta di una situazione fisica, che è un'arubo che si tratta di un'arubo, senti una lupità, perché il reto non è che non si lo affrontano e che è una promessa firme e positiva che entrando ai 2018, a rubare il risultato di un bel mappa e sicuro mirando che non solo la nostra ANDA che parte l'administrativa del lavoro, ma che abbiamo un guia di nozione, abbiamo un'opportunità economica che abbiamo busco, abbiamo un status di RG8 che cambia nel 2020, abbiamo una parte juridica per attenderci e abbiamo un reto finanziario, una casa con il nostro lobby, ma anche il nostro comprendimento tra l'Arupa e l'Ollanda, ma cerca di altro, anche con le nostre tre, tutte le governanti del reino cerca del benestare della nostra comunità, del progresso con l'Arupa e l'Apivio di questa situazione 2017.